Stiamo discutendo per lo yoga di coppia? No, stiamo discutendo del fatto che non facciamo più niente di niente insieme. Non facciamo più niente insieme. Io ti amo, ma se ricominci a parlarmi come se fossi sul banco dei testimoni, ti spezzo il collo. Facciamo sempre cose insieme. Davvero? Per esempio, a parte dormire, guardare la tv, uscire a cena, che cosa facciamo insieme? Solo noi due. Noi... non ti piace uscire a cena? Eh, va bene. Verrò a yoga. Lascia perdere. Adesso non vuoi che lo faccia? Vai a lavorare. No! Non me ne vado finché non risolviamo la cosa. Non fa niente. Ti prego. Ora vai. Dov'è, Vinesh? Sono Nick, il suo ragazzo. Lui è mio padre. Salve. Potete aspettare... Dov'è? Sta bene. Le stanno... facendo degli esami. Sta bene. Crediamo che l'alcol possa averle danneggiato il cuore. Il cuore. No, lei non beve, non molto. Solo quando è a scuola? Nick, di che sta parlando? Siamo andati in gita, un ragazzo aveva un documento falso. Diglielo, papà, tu conosci Abby. So com'è quando voi due siete con me, ma... Se è vero, le analisi saranno negative. Può darle un messaggio? Le ho portato i compiti. E la amo. Si, il dottor Miller è realizzato in sala di terapia intensiva. Grazie.